Buongiorno a tutti e benvenuti alla quattordicesima, nonché ultima, lezione del modulo di malattie dell'apparato cardiovascolare del corso integrato di medicina interna specialistica. Quest'oggi chiudiamo la nostra panoramica sulle patologie cardiovascolari parlando di fibrillazione atriale. Abbiamo lasciato da parte, se vogliamo, l'ultima delle aritmie dopo le ultime due lezioni e proprio per parlare di fibrillazione atriale a sé stante in quanto è un argomento estremamente complesso, estremamente diffuso, che è importantissimo sapere indipendentemente dal setting in cui si andrà a lavorare. Innanzitutto partiamo con le definizioni. Per fibrillazione atriale si intende innanzitutto un'aritmia che non rientra né nelle tachiaritmie né nelle bradiaritmie, nel senso che la fibrillazione atriale, come vedremo poi, può dare una frequenza sia elevata che lenta che normale, quindi non rientra nelle definizioni che abbiamo detto fino adesso. La fibrillazione atriale è caratterizzata innanzitutto, come dice il nome, da un'attività atriale estremamente rapida ed irregolare, in maniera simile a quello che succede per la fibrillazione ventricolare, in questo caso però è l'atrio che fibrilla, quindi una serie di fronti d'onda multipli che a tutti gli effetti non fanno sì che l'atrio si contraga, quindi nella fibrillazione atriale si perde la sistole atriale e se vi ricordate la lezione per esempio sulla lettura dell'elettrocardiogramma, perdendo la sistole atriale io perdo parte del riempimento ventricolare, ma soprattutto perdo all'elettrocardiogramma l'onda P, che è l'onda di depolarizzazione atriale, andando a perdere il riempimento ventricolare perché la sistole atriale non spinge più quel 10-20% di sangue nel ventricolo e quindi non va ad aumentare il riempimento ventricolare, io posso avere soprattutto nelle fibrillazioni atriali cosiddette ad alta risposta, quindi quelle fibrillazioni atriali tachicardiche, una gittata cardiaca ridotta. Come si decide sostanzialmente quanta è la frequenza cardiaca in un paziente con fibrillazione atriale? Dipende tutto dal nodo atrioventricolare, nel senso che il nodo atrioventricolare non si vede più arrivare un'attività, se vogliamo, organizzata come nel caso del ritmo sinusale, si vede arrivare tutta questa attività caotica e in multipli fonti d'onda, fa passare solo pochi impulsi della maggior parte degli impulsi, a seconda di quanti impulsi fa passare il nodo atrioventricolare, io avrò una fibrillazione atriale bradicardica, normocardica o tachicardica. e la cosa può cambiare anche all'interno dello stesso paziente, anche nel giro di poco tempo. Perché è importante la fibrillazione atriale? Perché è l'aritmia più frequente in assoluto. Si stima che se uno prende tutta la popolazione mondiale, intesi tutti, vecchi, donne, bambini, il 2% ma una stima in difetto delle attualmente esistenti esseri umani è affetto da fibrillazione atriale. E la prevalenza della fibrillazione atriale aumenterà nel tempo, perché aumenta soprattutto con l'aumentare dell'età e delle patologie cardiovascolari, quindi aumentando l'età media della popolazione si avrà un aumento anche della prevalenza dell'FA. Attualmente 2%, quindi più frequente nella popolazione generale addirittura dello scompenso cardinico. E questo è quello che abbiamo detto prima, cioè aumentando l'età è molto facile avere un aumento esponenziale della frequenza di fibrillazione atriale. Qui vediamo due grafici diversi, una è la prevalenza in Europa e una è la prevalenza negli Stati Uniti, divisi per le donne e per gli uomini, che fa vedere come la fibrillazione atriale è abbastanza rara sotto i 55 anni e inizia ad aumentare dopo i 65 anni, ma vedete raggiunge delle prevalenze anche del 15% per quanto riguarda per esempio gli europei over 85. Quindi il paziente anziano è un paziente che spesso soffre di fibrillazione atriale, con tutte le conseguenze che poi questo porta. Cosa succede da un punto di vista fisiopatologico? Allora, l'avere un ritmo caotico disorganizzato all'interno del mio atrio, cioè avere una fibrillazione atriale, genera nuova fibrillazione atriale. Era quello che una volta si diceva AF, cioè l'FA che genera l'FA. Questo perché? Perché l'FA togliendo la sistole atriale e avendo un'attività per l'appunto disorganizzata, causa un rimodellamento dell'atrio che all'inizio è un rimodellamento elettrico, cioè le cellule cardiache vedono modificarsi i canali che esprimono all'esterno e che permettono il passaggio di corrente. Andando avanti, il rimodellamento diventa di tipo strutturale, cioè le cavità atriali, non andando incontro alla funzione normale di sistole e di astole, si ampliano, aumentano i volumi e c'è uno stretch di parete che rende conto anche dal fatto che aumentando dopo i volumi di grande importanza si ha addirittura una sostituzione di parte cellule miocardiche con connettivo che peggiora il rischio di creare rientri, rotori, pronti d'onde irregolari e quindi questo fa sì che la fibrillazione atriale che all'inizio poteva essere, se vogliamo, un episodio raro nella storia clinica di un individuo andando avanti con l'età diventa sempre più frequente, diventa sempre più difficile rimuovere la fibrillazione atriale, far rientrare il paziente in ritmo sinusale finché la fibrillazione atriale avvenuto rimodellamento elettrico strutturale diventa permanente, cioè sostituisce completamente il ritmo sinusale dell'individuo. Una seconda connessione fisiopatologica importante è che la fibrillazione atriale è associata ad un alto rischio di cardiembolia cioè il paziente con fibrillazione atriale, anche con storia di fibrillazione atriale, non è necessario che la fibrillazione atriale sia attiva è un paziente che è predisposta alla formazione di trombi endocavitari, quindi parliamo all'interno delle cavità cardiache i quali poi possono embolizzare e portare all'embolia sistemica o l'ictus la fibrillazione atriale di per sé è una delle cause principali d'ictus ischemico seconda cosa, il paziente con fibrillazione atriale può andare incontro a scompenso cardiaco in quanto appunto perdendo la sistole atriale perde la capacità in parte di riempimento ventricolare e la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco spesso vanno a braccetto per questi motivi qual è la clinica dei pazienti con la fibrillazione atriale? dipende innanzitutto dal tipo di fibrillazione atriale come vedremo tra poco ci sono diversi tipi di fibrillazione atriale fibrillazione atriale si classifica sostanzialmente per quanto è persistente l'episodio di fibrillazione atriale come vedete i pazienti con fibrillazione atriale parossistica cioè pazienti che sono quasi esclusivamente in ritmo sinusale avvertono molto più facilmente l'aritmia pazienti che sono in ritmo sinusale per buona parte della giornata in cui la fibrillazione atriale si manifesta per l'appunto con dei parossismi cioè dei brevi episodi di fibrillazione atriale che poi rientrano spontaneamente come vedete il sintomo più comune è la palpitazione seguiti ma molto distanti da displea vertigini, dolori, toraci e castenia i pazienti al contrario con l'aspetto opposto cioè la fibrillazione atriale permanente cioè pazienti che sono perennemente in fibrillazione atriale che non sono più in ritmo sinusale hanno come sintomo principale la displea e quindi la correlazione con lo scompenso cardiaco va però detto e si vede bene da questo slide come la fibrillazione atriale può anche non dare sintomi e tanto più è cronica tanto più è come dire ormai accettata dal paziente e tanto più facile che il paziente non abbia sintomi legati alla fibrillazione e questa è la classificazione temporale che è importante da sapere perché sinceramente in base alla classificazione temporale cambia il tipo di trattamento per quanto riguarda perlomeno la prevenzione delle recidive prima cosa molto semplice il primo episodio di fibrillazione atriale indipendentemente dai sintomi e dalla durata è considerato come prima diagnosi ora abbiamo detto che una fibrillazione atriale che insorge improvvisamente e termina improvvisamente da sola quindi senza grapia si intende come fibrillazione atriale parossistica quindi i parossismi sono quegli episodi di fibrillazione atriale che insorgono e si risolvono spontaneamente entro sette giorni qualora invece la fibrillazione atriale per recedere per diciamo far rientrare il paziente in ritmo sinusale necessiti di un intervento medico cioè una cardioversione vedremo poi cosa intendiamo per cardioversione allora si parla di fibrillazione atriale persistente in questo caso la fibrillazione atriale insorge da sola di solito persiste per più di sette giorni e appunto ha bisogno di un intervento terapeutico per essere terminata la fibrillazione atriale persistente non passa da sola se la fibrillazione atriale persistente dura da più di un anno allora parliamo di persistente a lungo termine ultimo concetto fondamentale qualora non sia più non ci siano più armi non sia più opportuno far passare la fibrillazione atriale con la cardioversione e quindi il paziente è 24 su 24 in fibrillazione atriale non ha più ritmo sinusale perché tutto il suo ritmo è sostanzialmente sostituito dalla fibrillazione atriale allora parliamo di fibrillazione atriale permanente questi sono gli stadi più avanzati gli stadi finali di terapia dove il rimodellamento che abbiamo detto è ormai cronico in questi pazienti non è indicato effettuare una cardioversione perché possono avere controindicazioni o perché semplicemente il ripristino del ritmo sinusale non tiene perché l'ha totalmente ristrutturato talmente aumentato di dimensioni che il paziente rientra in FA dopo poco oppure come fibrillazione atriale permanente abbiamo anche i pazienti in cui la fibrillazione atriale viene accettata cioè nei quali è preferibile mantenere la fibrillazione atriale a una frequenza ovviamente discreta piuttosto che tentare terapia farmacologica li vediamo più avanti quindi la seconda del tipo di fibrillazione cambia anche l'estiologia una fibrillazione atriale parossistica come vedete cioè una fibrillazione atriale che entra e esce in autonomia ha molto spesso una causa non nota si parla di FA idiopatica nei pazienti senza fattori di rischio addirittura si parla di FA alone cioè di FA isolata sono pazienti che non hanno problematiche cardiovascolari di nessun tipo sono spesso giovani hanno di solito la fibrillazione atriale parossistica che entra e esce sono i migliori candidati a un trattamento consolidativo per esempio con un'ablazione come vedete altre aziologie tipo patologie valvolari ipertensione cardiopatia ischemica eccetera sono molto più rari cosa che invece sono molto comune nella fibrillazione atriale persistente nel qual caso si riesce spesso a trovare un'alterazione strutturale del ventricolo di solito di sinistra sottostante oppure una patologia valvolare oppure una cardiomiopatia e quindi ricordiamo una patologia strutturale primaria del cuore in questo caso come vedete le FA idiopatiche e le FA alone sono sotto il 15% quindi parossistica può essere anche da sola spesso è da sola persistente di solito sottende un'altra patologia cardiaca quali possono essere quindi i fattori di rischio per fibrillazione atriale molti li abbiamo detti sono quelli classici fattori di rischio cardiovascolare classico come può essere la pressione arteriosa il diabete patologie coronariche abbiamo detto patologie valvolari patologie infiammatorie croniche disturbi tiroidei l'età avanzata abbiamo visto che è un grosso fattore di rischio non modificabile per fibrillazione atriale in questo caso forse una delle poche eccezioni per quanto riguarda le patologie cardiovascolari il sesso femminile è più colpito dalla fibrillazione atriale rispetto al sesso maschile di solito per tutte le altre patologie che abbiamo studiato era al contrario nota importante è la sindrome delle apneostruttive notturne molti pazienti con fibrillazione atriale parossistica isolata hanno spesso come causa scatenante soprattutto paziente magari obeso una sindrome delle apneostruttive la sindrome delle apneostruttive è una sindrome che fa sì che durante il sonno ci si abbiano delle desaturazioni per sostanzialmente problematiche ostruttive legate alle prime via aeree il trattamento delle apneostruttive spesso in questi pazienti è sufficiente a evitare le recidive di fibrillazione atriale quindi un paziente giovane magari o sovrappeso in cui non si trovano fattori di rischio di fibrillazione atriale e continua a avere parossismi di fibrillazione atriale spesso sono molto sintomatici l'indicazione è quella di affettare una polisonnografia per vedere se fa pene durante la notte perché eventualmente si riesce a risolvere il quadro senza andare a lavorare con la terapia antiaritmica o con la terapia anticoagulare qual è la clinica quindi della fibrillazione atriale in realtà l'abbiamo già segnato quello che serve in questi pazienti è una valutazione completa perché abbiamo detto i sintomi possono essere diversi una buona percentuale dei pazienti non ha sintomi da fibrillazione atriale soprattutto pazienti in sana in FA permanente ma soprattutto i pazienti con fibrillazione atriale spesso hanno una patologia cardiovascolare sottostante e quindi tutte queste valutazioni che vedete qua servono per fare il punto sul tipo di fibrillazione atriale e sull'eventuale cardiopatia sottostante abbiamo detto come i sintomi possono essere diversi i sintomi possono anche non essere sempre presenti soprattutto i sintomi cambiano a seconda della durata della fibrillazione dell'irregolarità della frequenza risposta ventricolare fibrillazione atriale a frequenze più alte o a frequenze più basse quindi sostanzialmente gli estremi tendono a essere più sintomi automatici del paziente con fibrillazione atriale normofrequente l'FA ad alta risposta mi darà una cardiopalmo spesso l'FA a bassa risposta mi darà una stenia o una sincope ricordo che la fibrillazione atriale è tra le cause di sincope cardiogena e soprattutto i sintomi cambiano a differenza di quelle che possono essere le patologie sottostanti esempio classico un paziente con fibrillazione atriale scompenso è un paziente che sarà profondamente sintomatico nel momento in cui ha la recidiva di fibrillazione atriale proprio perché il compenso cioè la zittata sostanzialmente cardiaca è già alterata e quindi una successiva riduzione del riempimento volumetrico per perdita dell'assistore atriale può scatenare dei sintomi estremamente importanti questi li abbiamo già detti in alcuni casi soprattutto le sincope e la fibrillazione atriale ad alta frequenza può dare un dolore toracico simile anginoso semplicemente perché andando ad alta frequenza si riduce la fase diastolica e si riduce nei pazienti di solito con coronaropatia di vase la riserva coronarica e quindi il flusso di sangue che arriva alle coronarie c'è da dire che in una minima percentuale dei pazienti ma significativa il primo sintomo di fibrillazione atriale può essere anche l'ictus o il tia cioè l'attacco ischemico transitorio in questi casi cioè nei casi in cui l'ictus non riconosce una diagnosi precisa sono tutti i pazienti che vengono sottoposti a monitoraggio elettrocardiografico continuo perché posso avere l'evidenza di una fibrillazione atriale anche giorni dopo aver avuto l'ictus e quindi il paziente in quel caso va anticoagulato andiamo adesso a vedere quelle che sono le caratteristiche basi come si fa la diagnosi la diagnosi di fibrillazione atriale elettrocardiografica serve l'elettrocardiogramma in questo caso ci sono due pilastri fondamentali che sono quelli che vedete nella traccia più in basso la traccia più in alto è un ritmo regolare è un ritmo sinusale classico cioè delle onde P dei QRS e delle onde P il ritmo da FA ha due caratteristiche di base prima cosa è irregolarmente irregolare e quindi non ho dei delle frequenze che si ripetono i miei IRR cioè i miei intervalli tra un complesso QRS e il successivo saranno sempre diversi perché il passaggio di impulso a livello di nodo di nodo ventricolare avviene in maniera più o meno casuale quindi avrò dei complessi irregolari al tracciato al polso avrò un polso completamente irregolare un polso che non ha per esempio ritmi bigemini o ritmi da extrasistoli in cui si riesca a riconoscere uno schema e soprattutto non avendo un'attività atriale sincronizzata non ho l'onda P l'assenza di onda P che può essere o la traccia completamente piatta o la presenza come vedete qui indicata dalla freccia di un'isoele molto frastagliata ma senza la possibilità di riconoscere un'onda P definita mi fa fare la diagnosi di fibrillazione atriale quindi elettrocardiogramma pazienti in FA RR cioè intervallo tra i QRS completamente irregolare tra di loro assenza di onda P basta questo non è necessario altro ovviamente nei pazienti in cui ho il sospetto di fibrillazione atriale per esempio pazienti che mi portano una clinica sovrapponibile che hanno dei fattori di rischio oppure come abbiamo detto i pazienti con ictus criptogenetico in questi pazienti è utile estendere il monitoraggio in questo caso si fa con la telemetria per i pazienti ricoverati o con l'olter che cos'è? sostanzialmente è un sistema probabilmente molti di voi l'avranno anche utilizzato che permette di registrare delle derivazioni di solito sono tre difficilmente tutte e dodici durante un periodo di tempo che tipicamente è di 24 ore in realtà adesso ci sono degli oltre che riescono a lavorare fino a due settimane e mi serve appunto per diagnosticare le fibrillazioni atriali oppure nei pazienti in cui ho già fatto i diagnosi di fibrillazione atriale in cui ho già trattato la fibrillazione atriale per vedere se il mio trattamento è efficace o se questi pazienti fanno recidive l'ecografia come spesso accade in cardiologia ormai è un ruolo fondamentale in questo caso serve uno per analizzare la patologia strutturale di base se c'è due soprattutto per quanto riguarda per esempio l'ecografia transesufagia per andare a vedere se ci sono formazioni trombotiche cioè se la fibrillazione atriale nei miei pazienti non anticoagulati ha già portato hai dei trombi endocavitari che poi volendo si rompono e embolizzano e danno lo stroke cioè l'ictus ischemico classico e questo è quello che vedo col transesufageo il transesufageo a differenza del transtoracico non si utilizza di routine ma si utilizza soprattutto nei pazienti candidati a cardioversione d'urgenza cioè se un paziente con una fibrillazione atriale che voglio riportare il ritmo sinusale e quindi cardiovertire se la mia fibrillazione atriale non sono sicuro che sia durata meno di 48 ore posso sostanzialmente rischiargli un ictus ischemico semplicemente facendo ripartire la sistola in atrio quindi per evitare questa cosa prima della cardioversione si fa un transesufageo il transesufageo va a vedere meglio del transtoracico se ci sono trombi perché riesce a visualizzare porzioni del cuore che col transtoracico non si riescono a vedere nello specifico l'auricola sinistra l'auricola dell'atrio sinistro e qui permette di fare una cardioversione in sicurezza senza il rischio di andare a mobilizzare col ripristino dell'assisto le eventuali trombi presenti in atrio gli esami gli esami sono importanti vanno fatti subito almeno la prima volta che si vede un paziente di fibrillazione atriale molto spesso vengono ripetuti vi ricordo soprattutto la funzione tiroidea perché la disfunzione tiroidea sia come ipotiroidismo che come iper è associata a un aumento di incidenza di fibrillazione atriale e la funzione renale ed epatica semplicemente perché i farmaci che facciamo sia per la problematica di controllo del ritmo sia per la problematica di anticoagulazione possono essere cambiati come dosaggio o dare interferenze in base a quella che è la funzione renale epatica del mio paziente andiamo quindi a vedere il primo dei due pilastri della terapia della fibrillazione atriale che è la terapia antiaritmica in questo caso sostanzialmente le strategie che ho col mio paziente in fibrillazione atriale sono due che vengono chiamate come rhythm control cioè controllo del ritmo oppure rate control cioè controllo della frequenza cosa cambia? il paziente in cui si decide di fare una terapia in controllo del ritmo è un paziente in cui si punta a terminare la fibrillazione atriale e a ripristinare il ritmo sinusale quindi per controllo del ritmo intendo l'obiettivo da parte del clinico di riportare il ritmo sinusale e di mantenerlo nel tempo quindi anche di evitare le recidive qui fa vedere cosa succede nei pazienti con fibrillazione atriale di recente insolvenza vedete se la fibrillazione atriale di recente insolvenza intendo insorta entro le 48 ore è emodinamicamente instabile quindi paziente parametri vitali non buoni si procede con una cardioversione elettrica questo perché semplicemente per mancanza di tempo nel paziente che invece è emodinamicamente stabile si va a valutare se c'è una patologia strutturale nel caso ci fosse una patologia strutturale si può fare una cardioversione in questo caso per esempio farmacologica non elettrica e quindi un'infusione endovena di amiodarone nel caso non ci sia cardiopatia strutturale le scelte sull'antiarritmico sono diverse e possono includere di solito la flecainide il propafenone meno frequentemente l'ibutilide che in Italia non è utilizzato questo per quello che riguarda FA a recente insorgenza cioè FA nelle quali sono insorte da meno che 48 ore quindi io posso andare tranquillo nel ripristinare il ritmo sinusale perché tanto il trombo non ha fatto in tempo a formarsi quando decido quando fa la cardioversione elettrica e quando fa la cardioversione farmacologica prima cosa da dire la cardioversione farmacologica è tanto più efficace quanto precoce è l'inizio dell'infusione rispetto ai sintomi cioè il paziente che ha una fibrillazione atriale oltre 7 giorni o anche oltre 48 ore la fibrillazione atriale in qualche modo è stata in grado di assestarsi e la cardioversione farmacologica in questi pazienti è meno efficaci nella fibrillazione atriale di recente insorgenza la cardioversione farmacologica spesso è efficace e di solito la scelta ricade anche sulle problematiche gestionali nel senso che un'infusione di farmaco come può essere l'emiodarone mi dà un'efficacia 8 ore e quindi in un setting per esempio di pronto soccorso in cui ho una necessità pratica logistica di liberare il posto letto il prima possibile andare a fare un'infusione di amiodarone vuol dire che il mio paziente mi permane in pronto soccorso se va bene per mezza giornata probabilmente anche di più una cardioversione elettrica accorcia molto i tempi di gestione della patologia cosa e quindi indicata come abbiamo visto nell'instabilità emodinamica ma anche indicata in quei setting ad alto turnover tipo il pronto soccorso dove si vuole avere un'efficacia subito e soprattutto si vuole permettere un turnover del paziente quindi una dimissione veloce va da sé anche che la cardioversione elettrica ha un'efficacia che è tranquillamente sopra il 90% almeno da casistiche italiane contro un 75 il 70% di efficacia della cardioversione farmacologica quindi quando si parla col paziente va comunque fatto presente che il tipo di cardioversione che si propone che si vuole utilizzare non è una procedura efficace nel 100% dei casi c'è la possibilità che la cardioversione non sia efficace nel ripristino del ritmo sinusale quando invece io non ho come obiettivo quello di riportare il paziente in ritmo sinusale perché ho tentato cardioversioni varie volte sono state infruttuose o perché il paziente per esempio non può fare antiarritmici perché è intollerante o li ha già fatti in passato e non sono stati efficaci oppure semplicemente perché il paziente è anziano e il suo atrio è completamente ristrutturato allora invece della terapia del controllo del ritmo si fa una terapia di controllo della frequenza cosa cambia non punto a far passare la fibrillazione atriale punto a mantenerla ma punto a mantenerla a una frequenza si chiama controllo della frequenza per quello il più possibile nella norma quindi sostanzialmente indicato classicamente tra 50 e 110 battiti al minuto sono in un range più lasso di quello che abbiamo visto per definizioni di bradicardia e tachicardia che sono 60 100 qui se ci fate caso sono 10 punti più da ogni direzione 50 110 perché è stato visto che comunque all'interno di questo range un po' più alto il paziente risponde bene non ha aumento di sintomi e non ha se trattato anche con l'altro pilastro che sono gli anticoagulanti non ha un aumento della mortalità in questo caso abbiamo detto la definizione è abbastanza arbitraria come faccio a vedere se il mio paziente ha un controllo della frequenza efficace come abbiamo già detto con il monitor con l'olter con il monitoraggio continuo ci sono dei dispositivi per esempio dispositivi di misurazione della pressione domiciliare molto spesso adesso nuova generazione in grado di dare la frequenza anche nei pazienti in fibrillazione atriale addirittura alcuni hanno la spia che si illumina nel momento in cui c'è una detezione di fibrillazione atriale cioè di ritmo e di pulsazioni irregolari cosa cambia al paziente essere in controllo del ritmo o in controllo della frequenza da un punto di vista di mortalità sostanzialmente niente e questo è controintuitivo perché uno si aspetta che mantenendo il ritmo sinusale il paziente vada bene e abbia meno eventi avversi rispetto a mantenerlo aritmico in realtà non è proprio così se vedete qui per esempio le due curve di controllo del ritmo e controllo della frequenza sulla mortalità cumulativa a cinque anni sono molto simili significativamente non riferiscono assolutamente e questo è stato visto e dato dal fatto che la se vogliamo il vantaggio di mantenere un controllo del ritmo quindi un ritmo sinusale viene in qualche modo equilibrato dal dover fare un antiaritmico per la prevenzione delle recidive che purtroppo porta degli eventi avversi quindi andando a mettere sul piatto della bilancia queste due cose sostanzialmente l'effetto che ho è nullo è il primo paziente con controllo del ritmo sulla mortalità a lungo termine si comporta come un paziente con il controllo della sola frequenza questo abbiamo detto è vero e soprattutto è vero per la mortalità e per le incidenti cardiovascolari in questo caso parliamo di scompenso cardiaco tromboembolismo sanguinamento ed eventi avversi degli antiaritmici perché il paziente che si tiene sotto il ritmo sinusale a tutti i costi spesso deve fare antiaritmici a dose importante oppure più di un antiaritmico e quindi è più soggetto agli eventi avversi dati dagli antiaritmici stessi per quanto riguarda cardioversione farmacologica qui vedete una tabellina non è importante che sappiate i dosaggi ricordatevi semplicemente che ci sono dei dosaggi in acuto cioè dei boli e e poi delle dosi di mantenimento importante sapere che la flecainide e il propafenone non sono utilizzabili nei pazienti con cardiopatia strutturale quindi paziente con scompenso cardiaco con cardiopatia ischemica che ha per esempio fatto un'angioplastica coronarica e non sono trattabili con la flecainide e il propafenone perché sono inotropi negativi sono farmaci che possono peggiorare la cardiopatia di base che possono dare in questo caso aritmie anche minacciose la miodaronea è l'unica attuale soluzione in questi pazienti quindi paziente scompensato cardiopatico ischemico purtroppo c'è un'unica sola soluzione secondo grosso pilastro della patologia della terapia della fibrillazione atriale è la patologia tromboembolica allora abbiamo già visto come si lavora con gli antiarritmici rete o rhythm control secondo pilastro è impedire lo stroke o l'embolia sistemica questo perché perché il paziente con fibrillazione atriale come avevamo visto per la lezione sull'embolia pulmonare ha una triade di virco viperattivata cioè una stasi circolatoria data dall'assenza di sistole nel latro di sinistra e quindi a tutti gli effetti latri o di sinistra o di destra sono fermi il paziente con fibrillazione atriale ha uno stato di ipercoagulabilità spesso un paziente con un'infiammazione cronica sottostante e ha una disfunzione doteliale data dal rimodellamento cardiaco che abbiamo visto concetto fondamentale a differenza dell'embolia polmonare l'embolia da fibrillazione atriale è un'embolia arteriosa c'è un'embolia che molto spesso origina nelle sezioni sinistre del cuore nello specifico nel latro di sinistra ancora più nello specifico nell'auricola sinistra e questo spiega il perché dell'utilità del transesofazio in quanto unica tecnica non invasiva in grado di valutarmi l'auricola sinistra in realtà la correlazione tra tromboembolismo e fibrillazione atriale è ancora discussa e molto complessa mentre una volta si pensava per esempio che la fibrillazione atriale fosse un criterio necessario per la tromboembolia in realtà adesso le ultime correnti iniziano a mettere un po' in discussione questo fatto andando invece a puntare il fatto sul ristrutturamento sul rimodellamento dell'atrio come condizioni di base che porta da un lato alla fibrillazione all'altro lato alla tromboembolia e quindi l'associazione tra fibrillazione atriale e tromboembolia potrebbe non essere diretta ma probabilmente mediata dal rimodellamento a livello atriale in ogni caso quello che succede questa è la patogenesi classica per la nostra dissertazione c'è più che sufficiente è una stagiamatica a livello dell'auricola di sinistra che è quella che vedete qua la stagiamatica in associazione all'infiammazione all'alterazione dell'endotelio porta alla formazione di un trombo quando il trombo è di dimensioni notevoli si può staccare anche parzialmente e può andare a embolizzare l'ipercoagulabilità l'ipercoagulabilità è importantissima considerate che nella fibrillazione atriale sono evidenti delle modificazioni estreme soprattutto della cascata della coagulazione ma anche di alcuni fattori di crescita e delle citochine infiammatorie in particolare alcuni tipi di interleuchine e questo fa sì che sia più facile la formazione del trombo a livello della stasi che abbiamo già detto poco fa come vado e questo è un concetto fondamentale a valutare il rischio tromboembolico in un paziente con fibrillazione atriale c'è un punteggio che è il chazvas che lo vedete qua una volta c'era il chaz adesso è stato aggiunto da una decina d'anni sono stati aggiunti altri parametri il punteggio è un punteggio sommatoria cioè è un acronimo chazvas quelli che vedete a destra sono i fattori di rischio ognuno dà il punteggio cioè lo scompenso l'ipertensione il diabete le malattie cardiovascolari l'età da 65 a 74 anni e il sesso femminile abbiamo detto in questo caso danno un punto l'età sopra 75 anni o il progresso ictus danno due punti quello che si fa è semplicemente per ogni paziente andare a valutare questi fattori di rischio e sommare i punteggi quindi avremo un punteggio nella colonna di destra che va da 0 a 9 più è alto il punteggio di chazvas che è più alta l'incidenza annuale di ictus nello specifico mentre i pazienti con 0 non hanno incidenza di ictus già un punteggio di chazvas di 1 vedete porta un'incidenza di ictus dell'1,3% anno questo tipo di calcolo è un calcolo fondamentale nei pazienti in fibrillazione atriale si fa a tutti i pazienti in fibrillazione atriale perché mi stima il rischio tromboembolico ma soprattutto mi stima la necessità che il mio paziente debba fare un anticoagulante orale perché pazienti a rischio basso non hanno bisogno degli anticoagulanti pazienti a rischio medio-alto devono fare gli anticoagulanti come vedremo tra un po' li devono fare a vita perché l'incidenza di ictus vedete visto che è uno dei parametri dell'età può solo aumentare nel tempo una volta come anticoagulanti avevamo solo il warfarin che è un antagonista di vitamina K quello che commercialmente si chiama cumadi in realtà ce ne sono anche altri tipo il sintro ma attualmente per fortuna è ormai una decina d'anni sono usciti 4 nuovi anticoagulanti orali che tanto nuovi non sono ma che agiscono molto meglio del cumadin per una serie di motivi primo motivo non dipendono dai controlli dell'INR il paziente in warfarin in cumadin deve tenere un range terapeutico tra 2 e 3 per quanto riguarda la fibrillazione cioè sotto 2 la dose di anticoagulanti non è adeguata il paziente non è anticoagulato è a rischio trombotico sopra 3 la dose anticoagulante è eccessiva il paziente è a rischio emorragico quindi sono pazienti che dovevano fare delle visite con gli esami laboratorio frequenti anche una volta al mese e avere uno schema diciamo individualizzato per l'utilizzo del cumadin che cambiava da settimana a settimana ci sono altre cose come le interazioni per esempio con altri farmaci o con la dieta che rendevano il cumadin molto poco gestibile adesso in quasi tutti i pazienti c'è l'indicazione ad un anticoagulante di nuova generazione li vedete qui scritti sono 4 il dabigatran la pixaban il rivaroxaban e le doxaban sono sostanzialmente farmaci che agiscono direttamente come agiscono o a livello del fattore 2 nel caso del dabigatran o a livello del fattore 10 attivato nel caso degli altri tre farmaci rivaroxaban apixaban ed edoxaban non entrerò nel dettaglio perché anche qui la gestione della terapia anticoagulante in pazienti è estremamente complessa l'unica cosa da far capire è la seguente cioè se un paziente con una fibrillazione atriale in cui la mia fibrillazione atriale dipende da una problematica valvolare e intendo intendo nelle linee guida come problematica valvolare una stenosi mitralica che vi ricordate lezioni delle valvolopatie oppure una protesi mitralica allora i miei anticoagulanti di nuova generazione non sono efficaci vedete yes sul primo diagramma di flusso vado sul VK cioè l'annibitore della vitamina K cioè il Coumadin nei pazienti con Charles Vasca rischio 0 oppure nei pazienti in cui l'unico fattore di rischio quindi il paziente 1 ma in cui quell'1 è il sesso femminile come uno vale meno degli altri vedete siamo tutti a sinistra non si fa terapia antitrombotica tutti gli altri pazienti quindi fibrillazione laterale non valvolare con Charles Vasca 2 oppure Charles Vasca 1 che non sia essere donna l'indicazione è sia per i nuovi anticoagulanti che per il Coumadin con una preferenza per i nuovi anticoagulanti semplicemente perché più sicuri meno sanguinamenti rispetto al Coumadin spesso più efficaci soprattutto se ha dosaggio giusto il dosaggio degli anticoagulanti orali diretti dipende da una serie di fattori che cambiano da anticoagulanti anticoagulanti è abbastanza complicato quello che c'è sempre la funzione renale e soprattutto sono molto più tollerabili e gestibili da parte del paziente nello specifico sono non necessitano del controllo continuo dell'INR quindi il mio paziente dalla sua vecchia problematica che aveva in Coumadin cioè quella di dover fare dei prelievi amatici di dover aggiustare la posologia in maniera continua delle grosse interazioni con gli alimenti tutte per esempio le verdure a foglia larga sono ricche di vitamina K quindi a tutti gli effetti mi andavano a interagire col Coumadin questi problemi non dico che sono risolti ma sono estremamente meno pesanti con i nuovi anticoagulanti orali i nuovi anticoagulanti orali danno nuove problematiche e soprattutto che riguardano i costi legati al farmaco perché il nuovo anticoagulante è tuttora necessita di un piano terapeutico che deve essere rinnovato annualmente e hanno delle problematiche che sono proprie dei farmaci diciamo di recente immessa sul mercato quindi la gestione dei sanguinamenti ci sono degli antidoti per esempio per i nuovi anticoagulanti uno è il Praxbin che è l'antagonista del Dabigatron che è già in utilizzo l'antagonista per gli altri tre cioè inibitori e fattori di accettivati è in via di conclusione ma è comunque un'anticoagulazione che non può essere revertita nel breve periodo ovviamente l'aspetto ripeto è molto più complesso per quello che riguarda il nostro corso di medicina interna specialistica è più che sufficiente ci sarà la possibilità di approfondire questi argomenti in altre sessioni con questo finiamo l'ultima lezione del corso del modulo di malattia dell'apparato cardiovascolare e con l'ultima lezione vi auguro un boccalupo e ci rivediamo per le prossime volte e ci rivediamo